il master ha sempre ragione no non è questa la regola d'oro un avventuriero entra in un caffè e poi muore a questo punto il giocatore reagisce molto male molto male è un eufemismo ma se dico esattamente come reagisce poi youtube mi censura il video e il master è lì appunto per creare più gioco possibile per gli altri ed è per questo che la quarta edizione non esiste metterci a discutere adesso però allungherebbe solamente il video il master non è contestabile lo scorso video ci eravamo lasciati qui dicendo che è scorretto dire che il master non sia contestabile per quanto mettersi a contraddire il master non fa altro che far perdere tempo e far perdere divertimento all'intero tavolo ovviamente il master è soggetto errori ed è soggetto a possibili contestazioni il master potrebbe applicare male una regola magari anche in buona fede l'ha letta male l'ha letta e non l'ha capita o banalmente ha più di un gruppo di gioco è con un gruppo abituato a usare una determinata convenzione che però magari non sta bene all'altro gruppo tutte queste sono cose ovvie ma il master ha un compito ben più importante di quello a fare da referente per le regole dopo tutto le regole servono a veicolare la narrazione e il compito principale del master è appunto quello di fare in modo che la storia venga narrata con la partecipazione collettiva di tutto il tavolo in parole povere è quello che ha il compito di fare in modo che tutti stiano raccontando la storia in una maniera divertente e anche questa parte è soggetta ad errori torniamo al nostro esempio un giocatore decide di andare col suo personaggio a indagare in un bar malfamato ma nonostante i suoi sforzi le sue ricerche sono infruttuose fallisce una serie di tiri importanti e viene anche scoperto dal cattivo che nascosto lo avvelena sua insaputa il master si limita a dichiarare al giocatore che il suo personaggio muore sotto gli occhi impotenti degli altri membri del party senza dare giustificazioni come già detto il giocatore percepisce il tutto come un abuso però se si mettesse a discutere col master sul perché suo personaggio è morto così improvvisamente non farebbe altro che far perdere tempo e impedire il giocare agli altri giocatori dovrebbe quindi accettare la cosa appassimamente e rassegnarsi al fatto che non può contestare il master non proprio ovviamente si dovrebbe dare per scontato che il master non stia cercando volontariamente di abusare dei suoi giocatori di questo parleremo poi nel prossimo video però sta di fatto che il giocatore non è soddisfatto di come la scena sia stata gestita non si sente intrattenuto non si è divertito e questo è comunque un errore da parte del master il gioco di ruolo per sua natura è un'esperienza di collaborazione dialettica in parole povere tutti si mettono assieme per raccontare una storia e questa storia deve essere soddisfacente per tutti se a qualcuno nel gruppo non piace come sta venendo gestita la storia non si sente sufficientemente intrattenuto al sacrosanto diritto di farlo notare naturalmente non durante la sessione dopo quello che manca la regola aurea per come l'abbiamo espressa finora è appunto questo il modo più corretto per esprimerla dovrebbe quindi essere che il master non è contestabile durante il gioco una volta che la sessione finita è perfettamente lecito far notare al master eventuali errori o chiedere chiarimenti o anche solo lamentarsi del modo in cui la campagna sta venendo gestita anzi se per qualche motivo la quest che si sta giocando non piace sarebbe molto conveniente per i giocatori farlo presente al master subito alla fine della sessione che non gli è piaciuta di modo che il master possa o spiegare loro il perché sono state fatte alcune scelte o capire i bisogni dei giocatori e cominciare a riorganizzarsi già magari per la sessione dopo rimandando le discussioni a sessione finita non solo non si ruba tempo al gioco e non si rischia di far perdere tempo agli altri ma si può anche discutere con più calma e chiarirsi lontano dalla foga del momento quando la questione è già un sbollita non avete idea di quanti gruppi di gioco ho visto o sentito che si sono sciolti queste abbandonate semplicemente perché non erano in grado di una volta finita la sessione discutere tra loro di che cosa piaceva e cosa non piaceva anche solo nell'esempio che abbiamo fatto a fine sessione il master aveva potuto prendere da parte il giocatore col personaggio morto e lontano dagli altri membri del party spiegagli il perché il suo personaggio è morto e perché non poteva agire diversamente il giocatore avrebbe ricevuto una soddisfazione saprebbe il perché gli è successo e il master non rischia di rovinare il divertimento agli altri perché non sanno comunque quello che è successo potremmo andare avanti a indagare quando stavo originalmente preparando il video mi ero limitato come nei precedenti a esporre la regola e poi commentarla spiegando il perché si è arrivati alla definizione di quella regola il fatto è che in questo caso non mi sembrava una cosa sufficiente è fin troppo facile vedere master che si arrogano il diritto di essere infallibili o di vedere i giocatori che danno per scontato che tanto è inutile mettersi a discutere col master perché a non serve a niente fa solo perdere tempo quindi praticamente ho preso tutto quello che avevo scritto dopo averlo riletto l'ho cancellato e ho preferito rifare da capo applicando il metodo metaeutico fondamentalmente per far arrivare per gradi alla definizione della regola ho creduto che questo fosse un metodo più incisivo per affrontare l'argomento magari questo video potrebbe spingere qualcuno a riconsiderare il proprio stile di masteraggio non credo i master convinti di avere sempre ragione difficilmente seguono i consigli degli altri o che magari spinga qualcuno che sta subendo il delirio di un master onnipotente ad alzarsi dal tavolo e spiegargli come le cose dovrebbero andare realmente diciamo che questo è nel mio piccolo il mio personale contributo al miglioramento dell'ambiente del gioco di ruolo in generale per quanto riguarda voi invece vi è mai capitato di avere di fronte quello il famoso master dio che decide tutto lui e fondamentalmente non vi lascia giocare o siete riusciti negli anni ad accordarvi quanta libertà lasciate ai vostri giocatori nelle vostre quest fatemelo sapere nella sezione dei commenti per questo video è tutto settimana tra due settimane continueremo comunque l'argomento se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master CAE noi ci rivediamo un prossimo video